ciao a tutti i belli e brutti eccoci qui dopo il draft 5 che vi siete visti e vi siete gustati proprio a partire vittative che andate proprio a bgf eccoci ritrovati con i pacchetti che abbiamo trovato nelle nostre bellissime partite stravinte allora maggior parte l'ho vinte con un livello facile con il computer dove mi piace vincere faccio in tanti pacchetti questi sono i pacchetti partiamo dal fondo quindi ci gustiamo il primo pacchetto che quello argentuale vediamo un po cosa ci riserve il destino ma noi ci troviamo qualcuno di simpatico vediamo un po allora questo c'è tanto di velocità normal vado che si fanno nella formazione per questo dei torni sono messo in vendita e niente le varie cagate delle niente ci siamo liberati dal pacchetto argentone partiamo con primo oro vediamo un po che cosa ci darà il nostro unico raro che dovremmo trovare intanto ci siamo trovati questo spazio genomeno niente adesso scarto questi altri vediamo un po che cosa ci darà il nostro pacchetto eccoci col terzo pacchetto che ci dobbiamo aprire ce ne siamo trovati un altro nel pacchetto precedente e quindi siamo arrivati a 11 vediamo un po che cosa ci riserve il destino con la nostra fortuna che abbiamo troviamo barri che schifo non fa però vabbè c'è lo mandiamo simpatica parai non è un giocatore sardo questo è il mio tempo me lo mando cosa fare il suo destino perdere in vendita e poi ci sistemiamo anche questi eccoci con il quarto pacchettone vediamo un po che cosa ci regala natale questo qua non so chi sia però spero che mi porti bene vediamo un po e dato che sta andando a merda onda come attaccate l'estero io pensavo tutti sul cc e ho già fatto in casa non ho avuto via in squadra poi vediamo un po se c'è qualcun altro questo video dalla super league quindi ci lo vendiamo allegramente e ci vendiamo nella rispettazione di niente nulla di segreto tutto cacca diciamo per ci rendere parti in futuro migliore eccoci qua con qui più pacchettone un altro con 10 oro e un oraro quindi sicuramente poi ci sarà l'altro in oraro con la fortuna che vi trovo attenzione torisso che prende vale qualcosa è un giocatore molto a tutto sopra i 70 questo giocatore che secondo me è proprio sperante di trovarlo zapata dal midimese che non è male e si soccò questa volta che non è male arriviamo a 18.000 crediti niente questo pacchetto mi è piaciuto mi piace ciao ragazzi poi qua si è rotta la gamba adesso sistemo questi giocatini e qui c'è il sesto pacchettone eccoci al sesto pacchettone il punto non è andato male il simone abbiamo trovato tre giocatori che non fanno tanto schifo vediamo un po' se il sesto pacchetto ci scureggia un attimo nell'orecchio infatti qua ci sono trovato un po' il tierone della vieta spagnola che secondo me è vendibile vediamo un po' anche questo mi sembra malvagio ce li mettiamo dentro mi sagramente anche questo qua si vende bene la divisione del messico francamente me l'ha potuto tante a me e il guanto potrebbe si vende abbastanza bene per il resto ce lo mettiamo tra i rari tra le nostre vediamo un po' se troviamo qualcosa di riferino tra i rari che ci dovrebbe capitare vediamo casco ben giuoni simpaticamente ce lo mandiamo nella vista trasferimenti l'altro ah questo che non si vende mai tutta la mia vita e poi anche con un po' le biglie ottavo pacchetto ottavo pacchetto ce ne mancano sei vediamo un altro con tre rari vediamo un po' se magari tre rari sono tra i giocatori rari e magari anche forti ah però speravo in T-Dira invece Rai Nuts quindi proprio questo qua vabbè ah ci siamo trovati anche Bertolaccio che c'ho il pione vabbè del 19.000 a diciamo questo che sono set rari in un po' a costruire della destina che cercherai sarà una botta di culo che è quello che vi avvierà intanto qua la prospettiva è delle milioni ehm ehm ok ragazzi ehm niente una botta di culo per fortuna grello io ci mancherebbe ehm niente perché qua il pacchetto ce lo recitiamo per intero ma qua qualcuno di 200 ce lo siamo trovati ce lo mettiamo qui in vendita e niente questo è quello che ci ha dato ci ha riservato il destino ah ci siamo andati con l'ottavo se non ricordo male l'ottavo no non potrebbe essere conto poi lo scopriremo se lo vivendo non metto a mettere i numerini eeeh vediamo un po' ehm ah ci sono questi 4 contratti quindi questi non li vedo non li tengo per merda se sono abito di queste cose quindi ci definiamo tutti quindi vabbè questa è latida in dolore vediamo un po' vediamo questo che non ce li stiamo a vederlo perché è un po' per simbolare vediamo un po' se c'è qualcosa di per me no che ci ha aspettato quindi cominciamo già nella lista più di almeno eeeh niente questo pacchetto non bello che era un po' cosa bello eh ci siamo installati con lo spacchettamento ci siamo installati nel 10 pacchetto se non è fatto male eeeh sì erano 12 no praticamente 11 perché noi abbiamo trovato noi ci siamo già persi intanto poi i setterrari vanno un po' vittette eeeh ci siamo trovati tutti per tanto da ridere però sto proviamocelo al club perché sono cose che servono alla squadra eccoci qua con l'ultimo pacchetto da averci vediamo un po' ce ne siamo aperti i 13 alla fine della fiera vediamo un po' cosa c'è da qua credo che dovrebbe darci i setterrari non ci ha mai portato bene intanto noi vediamo che come i setterrari non sono mai i giocatori dal punto di partita quindi niente ragazzi vediamo un po' se ci ha dato qualcosa tra i contratti rari il sistema raro tra i capi seggettivo vediamo adesso Hawkman e male e male vabbè niente ragazzi questo è stato il primo pacchetto dopo il pacchetto del cd che mi ero comprato di FIFA 16 e questo è l'ultimo pacchetto del primo pacchetto del primo pacchetto reale di FIFA 16 fatto con i pacchetti trovati nel draft spero che la cosa vi sia piaciuta nel caso in cui vi è piaciuta la seconda pollicione ma anche per solidarietà quindi evitamente lasciatelo e se non siete iscritti al canale ovviamente iscrivetevi ovviamente ci sarà il sito via dicendo e se avete commenti da fare fatele pure ok ragazzi con questo è tutto vi saluto e ci vediamo col prossimo video ciao